Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale, come al solito, io sono Gabri, io Birillo, ormai è un anno che non ci vediamo, andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido Birillo, Sponzo, allora della smorfia, il numero 24, le guardie, al suo interno c'è fragola, panna montata e pan di spagna, un liquidozzo molto all day, va bene da cloud, un liquidozzo perché viene fatto 30 ml d'aroma, ci va aggiunto a portarlo a 120 di basetta vegetale, una a 0, 0 nicottina, una fiaschettina da 120 ml, la fiaschetta quella dei numeri della tombola napoletana, ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo, vai Gabri, io sulla Anita e il profile, io lo drippo sopra al Gun 22, sopra alla Wismac RS200, ci dà una bella vota, quindi quanto andrà, andiamo a provare, guarda per essere a 0 nicottina, non è male, si sente subito la franga, si e poi la cremosità della panna, il pan di spagna, si e no, però è all day, io un 7 e mezzo, 8 io lo do perché ti rimane il dolcino in bocca, si, questo non smaga, non smaga, non è forte, forte, che dici dopo tipo il crispy che è buonissimo, però dopo un po' che lo svapi magari un po' ti risputta, questo è molto blando, lo fumi tutto il giorno, tranquillamente, su un bel dripperone, un bel liquidozzo, io ci do un 7 e mezzo, si, il fumo ne fa tanto, e si è investito vegetale, si, fa per forza, allora dalla caverna dello swap è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, e ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram, veniteci a seguire, ciao, ciao.